andiamo a tagliare 60 5 e vi starete chiedendo perché tappa 4 ma la 3 dove è finita ragazzi? ve lo dico dove è finita la 3 è finita che era una tappa da 18 km e vedete la macchina come è uscita fuori e questo dopo le riparazioni praticamente l'ho demolita e ho fatto scarsi risultati per cui ho deciso di evitare di pubblicare un video in sostanza evitare figure di merda tappa 4 ultima di Monte Carlo 3 2 1 via che si parte avete visto prima le condizioni l'auto non è in formissima sto leggermente migliorando vediamo di mantenere questa linea di vita le belle giornate proprio non si sono viste strettissima spigolata da dio peccato che poi sono andato in appoggio contro l'inferno roccioso che voleva farmi grattire la schiena tante curve strette in questo pezzo vediamo se ce la faccio a imparare a fare un po' sti tornanti perché non me la cavo per niente c'è chi dice l'inquadratura uno su tutti il degio e gli do assolutamente ragione perché a vedere la macchina da dietro purtroppo non sei subito lì pronto sull'ostacolo vediamo questo tornante a destra da prima sicuramente no forse seconda sì ma poteva andare anche in prima comunque fatto male non ci siamo ancora qua addirittura ho anticipato e vabbè dai cioè ho controsterzato ma niente non ha girato mi considero ancora un nubbo di questo gioco ma attenzione cosa? perché attenzione? c'era uno scoiattolo? io non l'ho visto oh attenzione un po' di sole ecco forse l'attenzione dove va apposta abbiamo sto destra a tre no questo a sinistra dai un po' meglio un po' meglio le palle si vedono spesso scintille uscire da quei gun rail vediamo sta secca a destra dai 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 non ha girato niente dovevo non c'era non c'era niente ma sti tornanti proprio non mi tornano vale roda tornante a destra dai che ce la facciamo ma che ma che ma dove vuoi andare comunque posso dire una cosa che mi sono convinto dalla prossima tappa prossimo rally perché qui si cambia ecco un po' di neve intanto giusto per ammorbidire le orecchie del prossimo rally ho deciso di iniziare a guidare non so se per sempre o comunque per prova dai che forse non lo faccio bene vai aspetta aspetta no 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 nel burrone nella valle degli inferi caduto così nove secondi parca miseria tanto il paraurti lo passa a prendere stasera perché ho visto che era caduto dicevo dal prossimo rally che non so dove si correrà voglio provare la visuale dal cofono soprattutto perché vabbè non è che non l'ho mai provato l'ho già provata non in carriera qui intanto ho spiorato l'inferno nella galleria l'ho provata già in partite singole fuori dalla carriera mi piace molto perché l'effetto è triplicato bellissimo il muro intanto eh c'era un po' sporco c'era una cimice e l'ho tolta dai forse dai dai ma che ma che sti tornanti l'ho già detto ragazzi non mi tornano per niente uuuuh stavo entrando nella grotta segreta degli orsi vabbè dai un po' di spazio aperto cristiani state al vostro posto eeeh ne ho fatta una giusta cioè ne ho fatta una giusta ragazzi come minimo adesso tiro sotto qua come minimo ma non è un caso che comunque quando si ha un po' più di visibilità sono anche più tranquilla alla guida quindi vedremo un po' come andrà questo il prossimo rally l'altra curva fatta bene che bello wow sto riprendendo un pochino il prossimo rally vedremo come andrà con la visuale del cofone effetto velocità triplicato ma voglio vedere anche se riesco a impostare meglio sti tornanti perchè è un mio grosso limite ultimo quarto di tappa sto guidando decisamente meglio rispetto alla prima metà che scalatona eeeh mi giro eeeh lo sapevo mi giro qua mi sa che o era ghiacciato troppo oppure è un differenziale che ho impostato troppo sul posteriore che mi ha dato questo drift eccessivo qui addirittura c'è la roccia vabbè li lasciamo perdere qui ho dimenticato proprio di frenare tanti errori eh è giusto essere critici con se stessi perchè non sono ancora capace dritto quasi oltrepassata la rete arancione aspettavo che si piazzasse lì qualcuno giusto per darmi la penalità sai il solito calpestamento di di alluce che faccio di solito va bene ah quelle che vedete lì a sinistra sugli angoli della mia macchina non sono prese d'aria eh quelle lì sono proprio parti mancanti di carrozzeria che ho lasciato nella tappa successiva dai è completato ce l'abbiamo fatta secondo me ha fatto direi cagare diciamo sull'ottavo nono vediamo un po' quarto quarto però 43 secondi di cui se non sbaglio 9 di penalità e vabbè diciamo che i risultati non sono così bassi come piazzamento perchè anche gli altri non sono fortissimi cioè non c'è c'è troppo di stacco tra i primi due diciamo vabbè abbiamo finito quindi lasciamo perdere come detto questo rally di Monte Carlo l'abbiamo concluso è stato un po' una prova sono arrivato quinto in campionato anche se non si è visto ma il bello lo vedremo nella prossima gara nel prossimo rally siamo arrivati alla fine ci vediamo nel prossimo video saluti da Mavro ciao ciao